Troppo spesso scambiamo l'ansia per il vero problema che non ci fa sentire bene nella nostra vita, non ci fa stare bene, non ci fa sentire felici. Ma l'ansia non è che una reazione e una reazione avviene perché dentro c'è un problema più profondo. Molto spesso le persone che arrivano da me nel percorso di dieci settimane si sentono mancare il fiato quando vivono una situazione stressante e non riescono a vedere che dietro a quell'ansia, dietro a quella confusione c'è quasi sempre una ferita che risale a molto prima che ancora non hanno visto, non hanno dato abbastanza spazio perché possa essere digerita. Se è la prima volta che arrivi nel mio profilo e vedi un nuovo video ti do il benvenuto. Io sono Marco e ho creato un percorso di dieci settimane per aiutare le persone che si sentono frenate dalla propria insicurezza e appesantite dalle loro emozioni a sbloccarsi, a sbloccare quella forza, quell'entusiasmo, quella determinazione per mettersi al primo posto nel proprio progetto di vita. Ti porto l'esempio di una mia cliente che si sentiva in crisi, in ansia e in confusione perché non riusciva a prendere una decisione in una relazione complicata che stava vivendo con il suo partner. Non riusciva a sentire se veramente voleva mettersi in quella relazione, mettere tutto il suo amore, tutto il suo impegno per rimanere con lui oppure se fosse di più un peso per lei e avesse più bisogno di portare acqua al suo mulino. Questa cosa l'ha distrutta, nel senso che questa bipartizione in che cosa è giusto o sbagliato fare la faceva vivere continuamente in uno stato di stress e di ansia e di confusione mentale che rendevano ovviamente peggiore l'esperienza quotidiana di vita che fosse a casa, che fosse nella relazione, che fosse anche al suo lavoro o alle attività ricreative che la facevano stare meglio. Ciò che la teneva in confusione era quel marasma dentro la sua testa di opzioni, di circostanze, di possibilità, di aspettative che le offuscavano la testa e la mente e non le davano una chiara direzione, una chiara intenzione di quello di cui aveva veramente bisogno nella sua vita. Un sacco di paure e giudizi. Il problema è proprio quando ci lasciamo sopraffare da quello che ci sembra giusto o sbagliato. Quando cominciamo a fare queste due liste di cose dentro la nostra testa e a catalogare le nostre azioni, i nostri sentimenti su questo è giusto da fare e questo è sbagliato e non guardiamo di cosa abbiamo bisogno veramente arriviamo ad avere l'ansia per qualsiasi cosa. Questa mia cliente era arrivata a un punto talmente di sensibilità, di fragilità che scoppiava a piangere anche al vedere le coppie innamorate per strada oppure nei momenti in cui si realizzava anche che le persone intorno a sé potevano essere più felici di lei, non ci credevano, non si fidava che fosse possibile che le coppie potessero funzionare oppure si metteva a piangere e scoppiava in una tristezza profonda al vedere un senzatetto per strada e entrava in empatia e in una compassione veramente profonda con situazioni che non la riguardavano personalmente. E molto spesso lo scambiamo con sono troppo sensibile quando in realtà la sensibilità arriva dal fatto che non vediamo la vera origine, la ferita di base che ci ha portato a essere così sensibili, non si diventa in maniera automatica di carta pesta, non nasciamo di carta pesta che vibriamo ad ogni vibrazione che ci sta intorno, lo diventiamo quando non ci prendiamo cura di mettere uno spazio protetto intorno a noi. La confusione, l'ansia, lo stress arrivano perché ci distacchiamo dal nostro corpo che è la nostra ancora di salvezza, è la nostra base in cui viviamo tutti i giorni ma di cui mai ce ne rendiamo conto. Infatti questa mia cliente all'inizio faceva molta fatica ad ascoltare il suo corpo, a sentirlo, ad abitarlo, anzi lo riteneva proprio una macchina biologica che la portava in giro a spasso tutti i giorni. Durante il mio percorso ha imparato la cosa che le ha dato veramente la svolta finale su questo punto, è la svolta definitiva, ossia che il corpo è il nostro magazzino dell'inconscio e quando noi abbiamo una confusione in testa ci sentiamo troppo sensibili e ogni cosa ci dà fastidio, ci invade e ci manda in una profonda tristezza allora la cosa da fare non è trovare una soluzione fuori ma è trovarla dentro, ossia vedere in tutta quella confusione che cos'è che mi fa male, che cos'è che mi rende realmente triste ogni volta che hai una reazione e ti viene l'ansia per qualcosa chiediti che cos'è che ti fa veramente paura che cos'è che ti fa veramente arrabbiare che emozioni ci sono dietro e la cosa più importante da ricordarti è che c'è un sintomo nel corpo quando vivi una situazione dolorosa, paurosa, triste, arrabbiata o anche felice senti una reazione nel corpo lei in particolar modo sentiva lo stomaco come una pietra la gola a stringersi e come uno spillo conficcato dentro al petto questi sono segnali chiarissimi che c'è qualcosa dentro lì e fino a che non ti fermi e fai un respiro e ti invito a farlo anche adesso con gli occhi chiusi e senti quello che ti sta capitando dentro al corpo in un momento di crisi non riuscirai a controllarlo e continuerai a sentirti dentro a quell'uragano di confusione e di stimoli e di cose che ti portano ancora più stress ancora più confusione, ancora più ansia quindi la soluzione la trovi dentro di te non dentro la tua testa come si dice in tanti libri esoterici ormai del mio age in cui la soluzione si trova dentro di sé però dove? Nel corpo, nel mio percorso insegno a trovarla nel corpo e il corpo non sbaglia mai non sbaglia mai, te lo devi ricordare ogni volta che stai male che succede qualcosa che rovina la tua giornata che ti fa completamente cambiare di umore chiediti dove nel corpo si manifesta quali emozioni ci trovi dentro e fatti un respiro sciogliere nel corpo i sintomi delle emozioni e dei pensieri ci permette di manifestarli in maniera fisica e di cominciare ad avere molto più controllo di poterli gestire una volta che li possiamo toccare e molto spesso questo passa attraverso anche il tocco fisico il movimento del corpo una volta che senti che è nel petto il peso che senti e che il petto è tutto bloccato che non riesci quasi a respirare allora allargarlo anche fisicamente lavorare per sciogliere quei nodi e quelle pesantezze che ti stanno sul petto ti aiuterà a sciogliere anche le emozioni e i pensieri che ci stanno dentro da una vita magari e che ti continuano a rovinare la quotidianità nelle occasioni difficili perché ti senti troppo sensibile troppo fragile e non riesci a affrontare la vita con la determinazione e la sicurezza che desideri se ti è piaciuto questo video e ti è stato utile ti invito a mettere un mi piace a commentare, a condividerlo con i tuoi amici ho riaperto le iscrizioni al percorso di 10 settimane compila il questionario che troverai nei commenti per candidarti a una chiamata informativa insieme a me di 30 minuti in cui avremo modo di conoscerci e di capire se i tuoi bisogni incontrano la mia offerta e quello che può darti il mio percorso il percorso si struttura in 10 settimane io dico sempre che sono 10 settimane non 10 sessioni anzi 10 settimane anche molto intense in cui lavoriamo su tre pilastri il primo è ritornare ad avere una sicurezza stabile una fiducia in te stesso e una vita piacevole ritornando a sciogliere i tuoi blocchi nel corpo useremo il corpo per ritornare a costruire la sicurezza che ti manca per vivere la tua quotidianità in maniera più rilassata sentendoti in equilibrio psicocorporeo e riuscire a superare le difficoltà anche quando ci sono in maniera più lucida possibile il secondo pilastro che affronteremo nel percorso è fare pace con le ferite legate al tuo passato e con le emozioni negative scopriremo che se impari a vivere la rabbia la paura, la tristezza come occasioni per esplorarti per sciogliere e digerire vecchi dolori e non solo come l'ennesima rogna che ti capita durante la giornata e di cui vorresti sbarazzarti e che ti rende una persona più faticosa la vita più difficile allora riuscirai ad avere relazioni più autentiche a mostrare chi sei veramente senza più quella vergogna di fondo che c'è nel mostrare anche le emozioni negative che è molto diffusa nella nostra società e il terzo pilastro è imparare a scegliere secondo i tuoi valori più autentici questo vuol dire superare e fare un bellissimo lavoro sul giudice interiore ossia quella voce che tutti i giorni dice che cosa è giusto che cosa è sbagliato nella tua vita come dovresti essere come non dovresti essere e finalmente andare oltre tutte queste voci che ti dicono come costruire la tua vita sentendoti libero di costruirla sulla base dei tuoi bisogni dei tuoi sogni dei tuoi desideri questi tre pilastri hanno voluto dire tanto per decine di persone in particolar modo mi viene in mente Chiara che ha finito il percorso da pochissimo e pubblicherò il testimonial proprio in questi giorni che è arrivata da me completamente confusa staccata dal corpo non riusciva a godersi il suo lavoro da educatrice non riusciva a godersi le relazioni affettive perché si sentiva troppo oppressa troppo in gabbia e sempre sotto stress e con l'ansia abbiamo lavorato insieme per riportare equilibrio nella sua vita riportare quella sensibilità nel sentire il corpo nel considerare il corpo come la sua base solida le sono passati tutti i dolori legati alla schiena il peso che aveva sul petto il macigno che si portava nello stomaco e ha imparato ad usare la rabbia per affermare i suoi bisogni e ad accettarsi anche quando fa degli errori che era impossibile per lei costruendo finalmente quella direzione nella vita che più le si addice studiando all'università iscritta all'università interrompendo anche una relazione in cui non voleva starci ma si sentiva in colpa a lasciare andare se anche tu vuoi ottenere questi risultati e ti risuona quello che ti ho detto compila il form come ti ho detto all'inizio che troverai nei commenti e ci vediamo per una chiamata informativa gratuita grazie a tutti